Gabriele ha imparato un'altra cosa e ha iniziato a fare le smoffie e sembra una scimmietta però è sempre molto bello specialmente quando sta con nonna ormai quasi tutti i bambini possono piccoli fanno le smoffie e Leonora se lo guarda e dice a Clizia che cosa sta facendo questo bello Gabriele